Allora, siamo con il mister del Chieti, Alessandro Lucarelli, colpo grosso contro una formazione attrezzata, però comunque anche la vostra non è male e siete in salute, avete confermato quei progressi che avevate fatto nell'ultima parte di stagione. Sì, stiamo riuscendo a dare continuità a quello che è stato il girone di rito fine, il girone d'andata, l'inizio di ritorno. Abbiamo fatto una grande prestazione oggi, prettamente nel primo tempo, anche nonostante il campo con tanta qualità e idee. E questa è la cosa più importante per noi, perché non possiamo fare altri tipi di partite. Noi abbiamo un'idea ben precisa e cerchiamo di portarla su tutti i campi. Delle volte ci riesce, delle volte ci riesce meno. Oggi devo dire che nel primo tempo potevamo chiuderla meglio, c'è stata una disattenzione, l'abbiamo in realtà riaperta noi. Però poi questi momenti servono anche per fortificare ancora di più e far capire che c'è bisogno anche per soffrire, per vincere una partita del genere. Comunque non cambia poco o nulla rispetto a quello che si è visto, per quanto si è visto. Una partita che può dire tanto anche sul proseguo del campionato, che obiettivo vi date a questo punto? Il nostro obiettivo ce lo diamo settimanalmente, nel senso che noi adesso abbiamo 27 punti, sono ancora pochi, perché la salvezza è il primo obiettivo della società, è ancora lontano, almeno 15-16 punti, quindi non c'è tanto da stare non contenti, però non possiamo stare rilassati, perché è un campionato che veramente continua ad essere complicato e noi dobbiamo ancora continuare a stare sull'onda dell'entusiasmo, della crescita, perché abbiamo ancora margini di miglioramento secondo me e già domenica prossima ci aspetta una partita molto difficile, che però dobbiamo vincere per continuare. Mister, altro tonfo interno, peccato perché eravate ripartiti a sprombattuto e adesso invece un'altra sconfitta. Beh, un'altra, l'ultima in casa l'avevamo vinta. L'ultima in casa l'avevamo vinta, quindi un altro, sì, 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 un altro, sì, sì, va bene. Sì, diciamo che naturalmente quando c'è una sconfitta del genere, che penso sia comunque obiettivamente una sconfitta meritata, perché soprattutto nel primo tempo loro hanno avuto tre, quattro azioni importanti, dove è stato bravo il nostro portiere, dove una con la quale sono andati in vantaggio. Naturalmente alla base di questa sconfitta c'è l'errore di tutti, soprattutto il mio, perché quando una squadra perde, naturalmente l'allenatore è il primo che si deve fare domande, è il primo responsabile di tutto. Credo che nel secondo tempo ho visto comunque una reazione dei ragazzi, ce l'hanno messa tutta e si sono sacrificati, mentre nel primo magari abbiamo sbagliato un po' l'approccio e magari stavamo un po' sulle gambe. Loro sono stati molto più incisivi di noi, sono stati molto più cattivi e sicuramente devo fare i complimenti a questa squadra perché veramente mi ha impressionato e sicuramente il loro allenatore l'ha preparata molto bene. Una sconfitta che comunque, come è già successo altre volte, potrebbe anche non aver ridimensionato i vostri piani, però comunque per arrivare, per giocarsi il primato, forse serve un pochino più di continuità. Beh, se guardiamo le ultime quattro partite abbiamo fatto tre vittorie, quindi con questa naturalmente c'è la sconfitta. Sì, naturalmente per arrivare ci vuole continuità, però credo che come non ci siamo esaltati con le due partite in trasferta vinte, sicuramente non ci abbattiamo per questa sconfitta in casa. Naturalmente dobbiamo analizzare gli errori fatti, dobbiamo analizzare magari una mentalità, soprattutto nel primo tempo, secondo me un po' sbagliata da cambiare e da modificare, però, ripeto, non credo che bisogna fare dei drammi. Cioè, almeno io non la vedo così disfattista come lei. Più che altro l'approccio alla gara oggi poteva essere migliore e se fosse stato così la partita poteva andare sicuramente... Questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Per questo infatti ho detto che non ha ridimensionato quello. Questo è un dato di fatto, perché soprattutto si è vista la differenza dell'approccio del Chiedi e del nostro approccio. Però questo non toglie i meriti al Chiedi, è venuto a giocare la partita a viso aperto e, ripeto, obiettivamente ha meritato di vincere questa partita.